Amici e amiche, salve a tutti, oggi andiamo a rifare un video su un avvitatore Parkside Linea Flash Charge, ovvero si tratta di un avvitatore che al suo interno non ha batterie ma ha condensatori, quindi consentono una ricarica rapidissima di soli 60 secondi e l'immediata possibilità di utilizzo. Questo stesso avvitatore lo avevamo recensito l'anno scorso, a distanza di 12 mesi andiamo a riprendere lo stesso prodotto chiaramente attuale e scopriamo che praticamente non è cambiato nulla. L'unica cosa che è cambiata a distanza di un anno è che in Spagna l'anno scorso costava la bellezza di 39,99€, oggi si compra 22,99€, quindi da 23 a 40€ la metà del prezzo è un cambiamento molto significativo. Il fatto che ce lo stiano a riproporre pure, nella stessa praticamente livrea, nelle stesse condizioni, uguali identico, ci fa pensare che o si tratta di un prodotto talmente buono che va a ruba e quindi potrebbe anche essere un buon cavallo di battaglia per l'Idele Parkside o semplicemente non si vende così tanto e quindi devono semplicemente terminare le scorte di magazzino e magari da qui a poco andare a riproporre qualcosa che vada a colmare la fascia che anzi occupava questo però con delle caratteristiche un pochino diverse e che sia comunque più aspetibile rispetto a questo qua perché ho notato che nel momento in cui esci in vendita per molto molto tempo rimane sugli scaffali a differenza di altri prodotti che volano letteralmente. Probabilmente fino all'anno scorso insomma il prezzo era l'ostacolo principale perché 40 euro era un botto di soldi, 20, 23 già insomma la cosa cambia e diventa molto molto appetibile ai più. Quindi andiamo a dare un'occhiata rapidamente all'utensile che ci vengono a riproporre. Dicevo sono due condensatori da 2,3 volt che si vanno caricando ripeto in soli 60 secondi, una coppia dichiarata di 4 Nm e giri nominali al minuto sono circa 200. In più c'è ovviamente il caricabatterie e 5 bit all'interno. Ora andiamo a spacchettare non sto a leggere tutte le indicazioni della confezione perché alla fine lasciano il tempo che trovano e cerchiamo di aprire senza fare troppo danno. Ok voilà qua siamo all'interno della scatola di cartone troviamo come sempre la nostra valigettina di non eccessa qualità insomma è giusto un contenitore era sigillato andiamo ad aprire e vediamo che novità ci sono praticamente nulla è tale quale alla precedente edizione sempre il libricino di istruzioni che nel caso mio non prevede la lingua italiana soltanto spagnolo tedesco e portoghese probabilmente nell'edizione italiana ci deve essere la lingua italiana e la maggior parte dello spazio è occupato per l'appunto come vedete dal caricabatterie un caricabatterie enorme dentro c'è semplicemente una schedina sottile sottile quindi insomma anche questo voler vendere un oggetto così grosso quando anche di altre sedie di avvitatori trapani e utensili a batteria i caricabatterie della parkside oramai li fanno notevolmente più piccoli probabilmente è una scelta di marketing cioè più grosso è l'utensile più gli si dà un ipotetico valore fino a quando era 40 euro il tutto potevo capirlo ora 23 euro già è uno spazio che sinceramente sarebbe meglio risparmiarsi qui c'è la serie di 5 bit che arrivano unitamente all'utensile lo andiamo a riporre nuovamente agganciato al caricabatterie che a differenza di molti altri non ha nemmeno gli agganci per fissarlo al muro fissarlo a parete allora togliamolo di mezzo per il momento e qui troviamo una una prolunga per il bit con il cilindretto cromato quindi anche questo non è un gran metallo perché altrimenti non avrebbero cromato e qui c'è l'oggetto del nostro desiderio togliamo la scatolina di mezzo perché insomma il contrasto con il tavolo risulta migliore al video e vediamo intanto viene conservato così a forma di stiletto ma schiacciando questo pulsante qui dove c'è il simbolo del lucchetto si può voltare vedete e far riassumere la classica forma a pistola qui abbiamo i pulsanti direzionali che ci permettono di far girare l'avvitatore a destra o a sinistra schiacciando da una parte all'altra vedete ed è scarico fantastico è scarico completamente morto insomma questo probabilmente il difetto maggiore dei condensatori insomma quando arrivano arrivano e non ce n'è più ora mi toccherà rapidamente aprire questo ecco ci siamo ci siamo andiamo a caricare al volo tanto in 60 secondi ce dovremmo fare allora voilà da che parte questa ok perché rosso giallo ok perfetto ora il led diventa rosso questo verde indica lo stato di accensione del caricabatterie il rosso ovviamente indica lo stato di carica del dell'apparato dell'utensile gli diamo circa questi 60 secondi di tempo per ricaricarsi in questo in questo senso è una bellezza perché quando succede così magari un utensile che utilizziamo solo saltuariamente scusate e anziché perdere un'ora due ore di carica come per qualsiasi altro avvitatore qui ce lo troviamo scarico come in questo caso infiliamo e rapidamente dovrebbe arrivare a una carica completa certo è che stare qui a parlare 60 secondi aspettando la ricarica è un pochino imbarazzante lo confesso però insomma uno si che fa si fuma una sigaretta di rimane anche tempo anzi ne ricarica un paio che facciamo adesso sudoku stacchiamo ora stacchiamo dai vediamo se ha caricato qualcosa una ricarica anche parziale il minuto è passato ragazzi è passato perfetto vedete ora è arrivato sul sul verde quindi la carica dovrebbe essere completata sacchete lo proviamo così piegiamo perfetto dal punto di vista della ricarica questo fatto è fantastico poi chiaramente il discorso condensatori bisogna vedere quanto realmente mantengono la carica e quanto ci permettono di lavorare ora stare così e farlo camminare a vuoto secondo me ha poco senso bisogna vedere in corso d'opera quando quando sta lavorando quando sta faticando ovviamente il motorino interno va sotto sforzo sicuramente va consumando di più il discorso condensatori può essere interessante anche per un'altra cosa a differenza delle batterie probabilmente possono avere anche una vita un ciclo di vita più più lungo perché in questi casi quando si parla di avvitatori così piccolini parkside cosa fa ci mette un'unica batteria da 18 650 una batteria da 3 3,6 3,7 volt e la finisce la storia possono mettere solitamente un ampere e mezzo mi pare che quasi mai si trovi in questi casi una batteria da 2 ampere quindi un ampere e mezzo considerato che questi caricabatterie solitamente sono da quanto 0 800 miliampere occorrono sempre due ore per la ricarica o giù di lì in questo caso 60 secondi è meraviglioso probabilmente è una delle scelte più azzeccate di parkside cioè una ricarica veloce con condensatori e se il prodotto viene dura ecco diventa molto molto interessante certo è che diventa interessante laddove abbiamo la possibilità di avere un attacco di corrente da 220 quindi dove in qualsiasi momento diciamo si sta scaricando un pochino ora lo metto sotto carica e lo ravvivo ecco in questo caso i condensatori risultano ancora completamente carichi ma se ce lo dobbiamo portare fuori per qualche lavoro dove non c'è disponibilità di una presa da 220 ecco lì sono cavoletti acidi perché come fai una volta che i condensatori ti lasciano a piedi dice ciao non c'è nemmeno la possibilità di andare a cambiare il pacco batteria e metterne uno sostitutivo così come del resto accade per che so il bosch xo che sempre ha la batteria integrata non è possibile estrarre quindi comunque sono avvitatori che sono dedicati a dei lavori diciamo più casalinghi e assolutamente non professionali portarselo nell'auto stesso discorso fino a quando c'è la possibilità di caricarlo magari con un inverter bene se no insomma amen però alla sua valenza vedete ora dal punto di vista della praticità il fatto di avere sia l'impugnatura a pistola che questa impugnatura a baionetta lo fanno essere sì utile in spazi angusti magari quando si deve montare un armario una scaffalatura un pochino rognosa dove bisogna andare da dentro da fuori da sotto da sopra però devo dire che anche la sua bella bellingombro anche quando è così a stiletto a salsicciotto cioè siamo nell'ordine dei 20 centimetri più il bit eventualmente la prolunga quindi non è piccolo piccolo stesso discorso vale per quando lo tengo a pistola il bosch xo per esempio sarà più corto di circa 4 centimetri nell'impugnatura qui vedete che c'è questa parte che serve unicamente per essere inserita all'interno del caricabatterie che ne fa che ne fa risultare un ingombro comunque importante per tutto il resto che dire a 23 euro diventa interessante a 40 io già mi ero lamentato lo scorso anno dicendo questo non è un prodotto che vale 40 euro tant'è che insomma tanta gente come me l'ha pensato e anziché prenderselo su dallo scaffale l'aveva lasciato lì a magari aspettare un anno ora per curiosità vediamo di che anno è questo questo prodotto l'avvicino alla telecamera qui nella nell'adesivo ci dovrebbe essere riportato infatti ai 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 2017 ottobre 2017 vedete manufactured 2017 10 ecco praticamente questo non è altro che un reso scusate un fondo di magazzino evidentemente dal 2017 da ottobre 2017 a oggi questo qua è un prodotto in venduto la produzione di certo non si può permettere di far passare un lasso di tempo così lungo perché siamo giusto a ottobre 2019 due anni di di riposo in qualche magazzino sono veramente tanti per qualsiasi produttore o venditore in questo caso si la ragione di un abbassamento così forte del prezzo è dovuto al fatto che ne hanno sicuramente prodotti tantissimi perché l'idea era veramente buona ora al di là del fatto che io possa dire risulta un pochino lungo un pochino grande come mini avvitatore però l'idea dei dei condensatori è veramente buona e funziona perché insomma dopo un poco di utilizzo io se ho a disponibilità della 220 lo appoggio dico due sciocchezze e mi ritorna carico è fantastico insomma 60 secondi nemmeno te li vedi però insomma 40 euro erano tanti il prezzo il primo prezzo di lancio 23 euro probabilmente questo è un prodotto che se ne andrà e a 23 euro l'acquisto secondo me si può fare qualità costruttiva e beh i bit non valgono niente ve lo dico perché sono bit cromati vedete i bit hanno una qualità infima tutti quanti e per essere cromati insomma si tratta comunque di prodotti che sono stati realizzati con un metallo sicuramente inadeguato povero o appena sufficiente a quello che l'utilizzo come avvitatore e quindi insomma resisteranno quello che resisteranno la rogna e che quando si ha un metallo inadeguato per andare a stringere qualche vite a volte si rovina la punta del bit e ti va a rovinare anche l'innesto della vite qui proprio per ancor di più accentuare la destinazione d'uso di questo avvitatore non ci sono punte torox non ci sono punte particolari qui abbiamo semplicemente la punta piatta e la punta a croce da 90 gradi quindi diciamo che la sua vocazione di utilizzo è una vocazione estremamente semplice ma ciò non toglie che se utilizziamo dei bit di miglior qualità magari possiamo ottenere tanto di più da questo avvitatore questo invece per quanto riguarda invece la prolunga ecco quella che avevo di questo tipo mi si è rotta praticamente il cilindretto cromato qui sono due differenti metalli una cosa è l'innesto vedete che è brunito una cosa è il cilindretto dove poi si vanno ad alloggiare i bit ora lo riprendo uno e è magnetico è magnetico era magnetico magnetizza ecco è magnetico vedete e se si sforza troppo diciamo che questo cilindretto cromato tende a rompersi quindi nel cardici ma com'è che fai a romperlo beh diciamo che andarlo a rompere con un bit di questo tipo fai prima a rompere il bit magari non il cilindretto stesso discorso per questi qua a croce però se ci vai a mettere un bit torx dove magari c'è la possibilità o la necessità di stringere maggiormente il cilindretto cromato non resiste allo sforzo e si spacca così come mi è successo a me o semplicemente se non si spacca l'esagono interno del della prolunga si va mangiando proprio perché magari insomma le tolleranze i giochi forza del della rotazione destra sinistra vanno creando vanno ammaccando poco a poco l'esagono interno e poi insomma se il metallo del del bit che si usa è ben più forte come si spera di quello che il cilindretto c'è ciao prolunga quindi vedete voi in ogni caso 23 euro fateci un pensierino perché secondo me a differenza di quanto dicevo l'anno scorso dopo averlo pagato 40 euro a differenza beh forse vale il caso di fare l'acquisto e non lasciarlo questa volta sullo scaffale quindi vedete voi amici con questo è tutto io spero che questa recensione vi torni utile ora a distanza di un anno potrete chiaramente anche voi fare le vostre valutazioni e poi ci becchiamo magari l'anno prossimo quando speriamo sarà ancora più basso di prezzo e magari a distanza di tre anni visto che questo ottobre 2017 potremo anche vedere come stanno i due condensatori interni visto che sapete fosse un avvitatore a batteria una batteria 18650 dopo due anni di inutilizzo beh dubito fortemente che sia che abbia possa avere ancora un'aspettativa di vita lunga ma coi condensatori discorso cambia notevolmente ok bene con questo è tutto un saluto e alla prossima ciao